Prime scintille nel rinnovato Consiglio Comunale di Palmi. Nella seduta di ieri i consiglieri di minoranza Trentinella, Di Certo, Misale, Randazzo e Melara hanno evidenziato il caso. Abbiamo assistito, scrivono i consiglieri, ad un'evidente violazione di legge. In particolare sono stati violati gli articoli 18 e 19 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale che impongono di istituire nella seconda seduta del mandato le commissioni permanenti. La circostanza del resto è stata espressamente portata a conoscenza dell'Assemblea e del suo presidente dai consiglieri Misale e Mimma Di Certo. La Misale, in assenza del suddetto punto all'ordine del giorno, ha richiesto il rinvio della seduta a quella già fissata per il prossimo venerdì, mediante un'integrazione dei punti da discutere. Nonostante le preoccupazioni espresse, la richiesta di rinvio è stata bocciata dai consiglieri di maggioranza. A fronte di tale atteggiamento di chiusura, aggiungono i consiglieri, abbiamo inteso abbandonare l'Aula con rammarico, anche perché ciò non ci ha consentito di votare il fondamentale piano di protezione civile. Riteniamo, osservano ancora i consiglieri, che oltre ad una violazione di legge, siamo dinanzi ad una limitazione dei diritti delle minoranze, cui spetta la presidenza delle commissioni permanenti. Siamo convinti che si tratti solo di uno scivolone dettato sicuramente dall'inesperienza. Ci auguriamo dunque, continuano ancora i consiglieri di minoranza, che dalle prossime sedute del Presidente del Consiglio possa rendersi effettivo garante dei diritti di tutti e soprattutto del rispetto delle norme che regolano il funzionamento dell'Assemblea cittadina. Nel frattempo due diversi decreti sono stati cancellati dal neosindaco Giuseppe Ranuccio, un'anomalia e un errore non passati inosservati. Il sindaco ha provveduto alla revoca dell'atto emanato dal suo precedessore Giovanni Barone e proceduto alla revoca dell'incarico ai vertici della PPM, la Multiservizi del Comune. Il decreto incriminato, o sarebbe meglio i decreti incriminati, sono proprio quelli con cui l'ex primo cittadino ha nominato Giancarlo Pugliese, presidente della società in aus del Comune di Palmi, e Vincenzo Forgione ed Emanuela Gagliostro, componenti del CDA, ma con scadenze di mandato diverse. I tre amministratori sono così stati sollevati dall'incarico e nei prossimi giorni il sindaco Ranuccio procederà con la nomina dei nuovi vertici.